Non è stato facile, sono state settimane in cui abbiamo provato a metabolizzare questa dura sconfitta ma vi devo dire che dopo pochi giorni, dopo una settimana, dopo dieci giorni, dopo aver metabolizzato tutto mi sono sentito pronto insieme a tutta la mia squadra di lavoro a ripartire a ripartire per un anno che dovrà essere ancora più ambizioso, dovrà essere ancora più concentrato dovrà essere veramente preparato per affrontare un nuovo anno di Serie C Nasce in queste ore questa nuova avventura e io credo che debba arrivare forte sulla squadra e forte nell'ambiente quello che deve essere un'accelerata cioè il lavoro degli anni passati è sicuramente un'ottima base di partenza secondo me hanno lavorato molto bene poi è chiaro che da oggi in avanti credo che l'impatto dovrà essere forte quindi al di là dei nomi, al di là delle situazioni io credo che debba essere chiaro che in una stagione importante, lunga e difficile si debba creare una mentalità forte di compattezza di lavoro fuori dal campo e tutta questa percezione poi debba arrivare sull'allenatore, sullo staff e sulla squadra è un contratto Vivarini, ho cercato di capire quella che fosse la sua idea, le sue riflessioni non ho avuto preconcetti perché il mio modo di lavorare è cercare di capire le persone le motivazioni che hanno le persone ho trovato sicuramente una persona preparata, un uomo di valore che comunque ha fatto un buon percorso, però ho anche pensato che come dicevo prima ci sia bisogno di una svolta e di conseguenza avendo fatto delle valutazioni complessive molto attente e con la riflessione giusta io credo che si debba andare in direzioni diverse grazie